Cosa ti senti di dire agli utenti del web che ti stanno vedendo in questo momento, in questa vertenza che tocca quasi 400 lavoratori? Che è una vertenza che interessa non solamente i lavoratori AM, ma interessa la città di Bari. Ripeto le stesse parole che ha detto il sindaco davanti ai cancelli. Non possiamo perdere questa unità produttiva perché è essenziale, non solo per i lavoratori, ma anche per la città, soprattutto per il futuro. Il progetto che si è arrenato, non si capisce bene per quale motivo, all'ultimo minuto, e che secondo noi può essere ripreso e ripresentato, puntava proprio a questo, a fare un'azienda dismessa, un'azienda che avrebbe dato futuro alla collettività, non solo al discorso delle famiglie e dei lavoratori dell'OM, ma avrebbe potuto incrementare qualcos'altro per il futuro. Addirittura a creare nuovi posti di lavoro? A creare nuovi posti di lavoro, certamente sì. Adesso sentiamo il parere di qualche lavoratore. Diciamo che l'OM non era in crisi, anzi. Assolutamente. Questa notizia noi l'abbiamo presa tra cap e colla. Non era in crisi, andavamo bene. Certo, attraversavamo dal 2008 un periodo di contrazione del mercato, ma era tipico di tutte le aziende. Non ci aspettavamo una chiusura aziendale, comunicata poi così, senza mezzi termini, e secondo noi con qualche mistero dietro. Cosa vuol dire il tuo collega? Con qualche mistero dietro cosa significa secondo te? Il mistero sta nel fatto che non sono mai stati chiari, sin dall'inizio, perché svuotare un sito come quello di Bari, portandosi fuori da quello stabilimento un carrello prodotto, innovato, interamente su Bari, portarselo in Germania, togliendoci la possibilità di vendere con i nostri filiali in Europa, hanno praticamente fatto il giochetto di svuotare da una parte per rinviare dall'altra, dimostrare che poi noi non avevamo più niente in mano e chiuderci completamente, perché dicono siamo di quattro teste di quiz, ma non era così. Ricordiamo che tu hai un mutuo? Un mutuo, io ho un mutuo, una bambina e una moglie a casa che non lavorano. Non è l'unico il tuo collega in questa situazione, che cosa ti senti di aggiungere, di chiedere soprattutto? Per noi il progetto è ancora valido, bisogna solo trovare un imprenditore che sia capace di sposare questa avventura e portare il rilancio di questo stabilimento. E' quello che chiediamo alle istituzioni, al Comune, alla Regione, al Ministero dello Sviluppo Economico è proprio di sforzarsi di trovare un imprenditore che possa credere insieme a tutti quanti noi e alla città di Barintero in questo progetto, perché è veramente uno scippo che stanno mettendo in atto nel nostro territorio. Non c'è alcuna motivazione logica di fare quello che stanno facendo. L'età media è circa 40 anni, come ti senti? Anche meno. Beh, siamo tutti... Anche meno addirittura. Siamo tutti giovanissimi, per cui chi aveva il progetto di mettere in cantiere il matrimonio, mettere su dei figli, chi già l'ha fatto, chi ha da pagare il mutuo, siamo sicuramente tutti giovani. E speriamo, siamo qui oggi con il Sindaco Emiliano, sperando che ci possa aiutare a fare luce sugli aspetti che noi definiamo oscuri, per come sono andate le cose. In conclusione, quando terminerà il vostro rapporto di lavoro? Il 30 marzo. Naturalmente tutto il progetto per il salvataggio della fabbrica con la produzione di tassi ibridi ad alta sostenibilità ambientale è in forse. Si era creduto in questo progetto. Dal punto di vista industriale sembra ancora un progetto molto valido, proposto da persone serie. Bisognerà cercare di capire, con il coordinamento del Ministero della Regione Puglia, perché gli imprenditori che avevano immaginato di partecipare a questo progetto si sono momentaneamente, spero, tirati indietro. Naturalmente questi ragazzi hanno capacità straordinarie dal punto di vista operaio, progettuale. E anche imprenditoriale, perché addirittura vorrebbero mettere le loro TFR. Le loro liquidazioni in un eventuale progetto del genere. E ovviamente gente così può conquistare il mondo, se qualcuno capisce che cosa è una classe operaia moderna, che si pone i problemi della competizione e della prospettiva industriale di un'area importante come Bari. La maturità tecnica, umana e politica di queste persone è la forza della fabbrica. Speriamo che qualcuno riesca a capire che devastare tutto questo significa ridurre l'Italia in una condizione di minorata difesa nella competizione internazionale. Oggi è il 31 marzo, il 31 marzo scade il loro contratto. Loro dal 1 aprile, tecnicamente, tra un mese sono fuori. Bisogna accelerare i tempi. Ti prendi questo impegno? Io potrei prendermi l'impegno anche a darti una pacca sulla spalla, ma questi mica si fanno prendere in giro con una pacca sulla spalla. Qui bisogna andare dal padrone, come si dice, bisogna dire che la fabbrica non deve chiudere. Ovviamente i mezzi di cui disponiamo sono relativi, anche se dovessimo occupare la fabbrica ci lasciano là dentro, non so se è chiaro. Però noi ci proveremo e ce la metteremo tutta. Grazie.